Ben ritrovati amici ma soprattutto amiche dello spallino.com non poteva iniziare con un botto più grosso la serie di dirette del 2022. Ciao Leo Biscuola. Ciao a tutti, ciao Orla, ben ritrovato. Salutiamo anche le Martine che non sono con noi. Allora, io non so Leo perché ci separano alcuni anni dal punto di vista anagrafico, probabilmente non hai modo di ricordare che Mai Dire Goal, il meraviglioso programma degli anni 90, quando un allenatore veniva esonerato metteva delle immagini che lo riguardavano un po' a rallenti e in sottofondo metteva Missing di Vangelis, una colonna sonora meravigliosa che secondo me rendeva sempre l'idea. Quindi stasera salutiamo in maniera un po' così prosaica Pep Clotet che nello spazio di meno di 24 ore si è scoperto essere stato esonerato perché l'antefatto, intanto saluto tutti, Alessandro, Simone, Mauro, madonna ci stanno con tantissime persone, Stefano, Maurizia, Francesca, Mattia, Giorgio, Beatrice, Elena, insomma veramente grazie a tutti per esservi collegati così. Solicitamente dicevo Leo, ieri sera alle 23.56 io ero in poltrona, che stavo sostanzialmente guardando una roba, e mi arriva il tuo messaggio in cui scrivi ah, Di Marzio ha appena detto che cacciano Clotet, ho detto no, ti prego e questo mi ha portato ad andare a letto alle ore due, giusto per sottolineare quanto io ci tenessi a capire qualcosa dell'intera situazione. Esatto, esatto, mi ha detto intanto che devo ringraziare il mio amico Daniele che mi ha detto in maniera praticamente live insieme a Di Marzio della notizia di Clotet. Diciamo che appena l'abbiamo presa anche noi un po' come tutti da calciomercato, siamo rimasti un po' basitti, possiamo dirlo, anche perché... F4 o basitti come in Boris, ovviamente. Esatto, è passato da una situazione granitica, cioè perlomeno in una posizione... No, solo apparentemente granitica. Apparentemente, apparentemente, stranamente granitica dall'essere esonerato addirittura già con un nome di un successore, quindi una cosa che ci ha lasciato, non solo a noi, in realtà molto, 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 molto perplessi. E lo siamo ancora, d'altra parte, perlomeno io orla sono ancora moltissimo perplesso delle tempistiche, delle modalità, ma comunque dopo ne parleremo, insomma, di tutto quello che è successo. Madonna, quanti commenti stanno arrivando? No, no, ma è una roba pazzesca. Infatti, Sara, che è il tuo spirito guida, tra l'altro, dice che c'è più gente collegata della sera con Sara Pinna, il che è vero. Può essere. Anticipo già a chi ci sta seguendo che, grazie alla gentilezza del collega Diego Zilio del mattino di Padova, avremo la possibilità di fare un quarto d'ora, 20 minuti di chiacchierata con lui per parlare di Roberto Venturato, che contestualmente alle zone di Ricoltette è stato nominato come nuovo allenatore della SPAL e chi meglio di un giornalista che, insomma, conosce Venturato e lo ha documentato le sue stagioni a Cittadella, può aiutarci a iniziare a inquadrare l'allenatore prima di conoscerlo in conferenza stampa. Fioccano, fioccano i commenti. Prima di detto, io andrei subito a parlare dell'elefante nella stanza, cioè qui si vuole sapere una cosa, al di là del fatto che Clotet è stato generato. La gente vuole sapere. La gente vuole sapere, esatto, chi noi siamo, ma soprattutto perché Clotet è stato generato. Sì, e c'è chi lo chiede, infatti Mattia dice se voleva una giornale Clotet perché non farlo subito dopo la pietra del Fosinone? Qual è successo in questi giorni? Eh, ottima domanda, caro Mattia, che credo poi che sia un'altra cosa. È una domanda che tutti si stanno facendo, si sono fatti. Allora, anche Luca ce lo chiede su cosa è successo in queste ore. Intanto ciao Massimo, Carli da Londra, grandissimo Massimo che ci assiste anche con un pezzo della parte tecnica dello spallino. Allora, cos'è successo? Faccio una premessa. Non è facile, non è facile dire cosa è successo in pratica. Vi garantisco che io da ieri sera ho passato praticamente tutta la giornata di oggi al telefono, che fossero chiamate, che fossero messaggi, cose del genere, veramente perché l'obiettivo era arrivare a determinare cosa, caspita, è accaduto in questi giorni. Quello che mi sento di dire è che non è successo qualcosa in particolare ieri. Poi ovviamente chi ci ascolta e chi ci segue è libero di credermi o di non credermi. ma da quello che ho avuto modo di capire, parlando con varie persone coinvolte in questa storia, è che quello che è accaduto tra ieri e oggi sia stato l'atto finale di una cosa che bolliva in pentola da una quindicina di giorni, cioè all'incirca prima della partita col Brescia. Cioè che da lì certi tipi di incomprensioni tra Clotet e la dirigenza abbiano cominciato a farsi sempre più irrisolvibili. Perché da un lato c'era Clotet che legittimamente o meno, di questo discuteremo tra poco, ritiene che la SPAL con alcuni interventi possa ambire a un campionato migliore di quello che le è stato prospettato che è quello della salvezza. Dall'altra parte la SPAL che ha detto in tutte le salse a Clotet, come l'ha detto a noi, come l'ha detto ai media, di ogni tipo di latitudine, la SPAL quest'anno si deve salvare e deve mettere a posto il bilancio. Quindi qualunque roba in più di un quattordicesimo, un tredicesimo posto non è nei piani. A quanto pare questa cosa è stata stressata a tal punto che la SPAL ha dovuto fare una valutazione e sedersi al tavolo, soppesare i pro e i contro e rendersi conto che non c'erano più i presupposti per continuare con Clotet. Questo è il riassunto ultrasintetico. Poi ci sono vari risvolti che analizzeremo adesso, ma la questione delineata è questa qui. Ecco, la cosa che mi fa specie, che comunque Clotet, quando ha parlato in ogni circostanza pubblica perlomeno, non ha mai dato il segnale, se non forse in un'intervista post partita, che prima sono anche dato a rileggermi, non ha mai dato segnali di insofferenza o segnali di essere contro il pensiero filo societario, anche se in realtà in una circostanza, e forse può essere questo dal momento in cui c'è stato lo scollamento tra la SPAL e Clotet, se di scollamento si vuole parlare, in cui lui ha detto sì, è vero, la squadra, l'allenatore parlano durante le partite, durante il mercato parla la società. Forse questo spostare la pressione da, oddio, più che spostare, aumentare in maniera impressionante la pressione sulla società, non è andata bene dalle parti sia di New York, ma anche di Ferrara, no? Sì, ma a proposito di New York, perché Gio Tacopina era lo sponsor numero uno di Pep Clotet, non che l'avesse scelta. Sì, sì, ma stasera facciamo il voto. Abbiamo fatto numeri simili, ti ricordi, Leo, un anno fa, poco meno, quando si parlava di Dio. Tacopina era lo sponsor numero uno di Clotet, gli piaceva molto, tra i due c'era anche un certo tipo di intesa dovuta anche al fatto di poter comunicare in inglese, cosa che, per esempio, Zaumuner con Tacopina non può fare. Non so se Tarantino conosce l'inglese, in realtà, però vabbè. Comunque diciamo che in alcuni casi la SPAL si ritrova con una barriera linguistica con Tacopina, che nel caso di Clotet non c'era. Però se si è arrivati a questa decisione, vuol dire che Clotet ha perso anche la fiducia di Tacopina, perché se non fosse accaduto questo, Tacopina non avrebbe preso questa decisione. Aggiungo una cosa, il 13 dicembre, Gio Tacopina dichiarò che non c'era alcun dubbio su Clotet, quindi 20 giorni fa il presidente della SPAL disse non c'è alcun dubbio su Clotet, andiamo avanti con lui. Nello spazio di 20 giorni è successo qualcosa, è successo quello che ho descritto prima, si è avviato un processo di crescente insofferenza di Clotet rispetto a quelle che probabilmente erano le sue aspettative e in realtà le aspettative della società e le effettive possibilità di questa società, perché evidentemente Clotet si aspettava che questo organico venisse rafforzato in una certa maniera a gennaio, cosa che in realtà gli è stato detto che non verrà fatta, cioè gli è stato detto che verranno messi dei correttivi, portiere, Falcone, Meccariello in difesa, un centrocampista, una punta e poi ci fermiamo qua, ammesso che non vengano fuori altre opportunità. Questo deve aver creato delle divergenze che sono diventate non più sanabili. Aggiungiamo Orl nel calderone che ha fatto esplodere la situazione, visto che ce lo stanno chiedendo in diversi nei commenti, che c'è anche una questione probabilmente legata allo spogliatoio. Clotet per quanto possa aver fatto bene, possa aver fatto male, con la rosa che ha a disposizione, poi questa è una cosa opinabile perché si può dire tutto il contrario di tutto senza avere una controprova. Sicuramente alcune situazioni non le ha gestite in maniera fenomenale. Sicuramente, e sto parlando di Demba, che è un giocatore che… Non è l'unico caso. Gli erori che ha fatto, è vero, per carità li ha fatti, però comunque la situazione non è stata gestita bene. Alcune scelte che… tattiche, per carità, quindi di competenza dell'allenatore, su cui noi possiamo dire ben poco, però comunque che non hanno convinto particolarmente la posizione di Mancosu, forse il decentramento di Colombo. Sicuramente non sono state le cose che hanno fatto traboccare la goccia dal vaso, però 1 più 1 più 1 alla fine hanno portato a una valutazione sommaria che è quella di esonerare Clotet. Poi io ora ti dico anche un pensiero personale. Io sono sinceramente dispiaciuto che sia un giocatore. Perché comunque il lavoro che stava facendo forse poteva essere fatto meglio, non lo so, questa è una cosa che non sono in grado di dire, però comunque io l'ho apprezzato. L'ho apprezzato anche perché ha avuto anche dei meriti. Noi ricordiamoci che comunque insieme allo staff tecnico sanitario ha recuperato il giocatore più importante di questa rosa d'oggi che Viviani. Ha dato la possibilità a Colombo di esprimersi e l'ha messo nella condizione di poter fare anche qualche gol. Insomma, in questo momento io non butterei il bambino con l'acqua sporca. No, 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 ma è chiaro che una valutazione di Clotet non può essere dicotomica, nel senso Clotet bene o Clotet male. Clotet è un personaggio complesso in un contesto complesso, in una stagione di transizione. Ci si aspettavano delle cose, delle cose sono successe, altre cose che ci si aspettavano non sono successe. A chi chiede come... Mauro, sapete se Taccopina faccia una conferenza stampa? Non è imminente la conferenza stampa di Taccopina perché Taccopina in questo momento è New York, quindi non è in programma una conferenza stampa di Taccopina. Nel breve non sarà presente per la presentazione di Venturato che non sappiamo quando ci sarà. Questo è un aspetto in via di definizione, potrebbe essere venerdì come lunedì prossimo, non lo sappiamo. E quindi aspettiamo di capire. C'è gente che dice che se arriviamo a 300 chiami Viviani in diretta. Non ho il numero di Viviani, mi dispiace, però arriveremo a capo anche di questa serie di Viviani. Intanto a approfittare della disponibilità del collega Diego Zilio che è collegato con noi da Padova, da Cittadella, da dove? Ciao Diego. Proprio da Cittadella. Da Cittadella, quindi più vicino di così a Venturato non si può. L'abbiamo chiamato perché ovviamente il nuovo allenatore della SPAL ha passato sei anni a Cittadella. Noi l'abbiamo sempre guardato con ammirazione Roberto Venturato, nonostante questo profilo un po' da Brontolone, chiamiamola così, però i risultati parlano per lui. Quindi Diego ti chiederei di aiutarci a tratteggiare un ritratto di Roberto Venturato. Ma guarda, più che Brontolone secondo me ha pagato un po' il suo lamentarsi magari sulle sconfitte. Ecco, se c'è una cosa che chi soprattutto lo segue solo da avversario magari per cui nelle due partite in cui si incrociava da nemico, tra virgolette. Però insomma sono altri gli aspetti su cui punterai insomma da sottolineare. Secondo me è un'ottima scelta intanto per la SPAL. Sulla sua preparazione tecnica non ci sono dubbi e credo che qualsiasi se il giocatore l'abbia avuto come tecnico lo confermi come uno di più preparati, uno di quelli che faceva lavorare di più. E una delle cose che colpisce al di là dei risultati o una delle cose che colpisce che posso sicuramente ribadire insomma con decisione è che le squadre di Venturato, o almeno in Cittadella di Venturato, è molto riconoscibile nel suo modo di stare in campo, nel suo modo di giocare. Per cui l'avessimo visto con altre maglie senza sapere chi andare in campo, comunque si vede ecco la sua mano e la sua impronta. E lì con le squadre... Posso dire una roba? Venturato si sente anche perché l'anno scorso con le partite a porte chiuse durante i diretti da zone sentivano solo i suoi urli e le sue indicazioni. Guarda la palla. Per lo più le guarda la palla, sì sì. È una cosa che infatti se parli con il giocatore come si dice sì, boh, veramente è un tic. Comunque è un modo suo evidentemente per tenerli sul pezzo, come va di modo a dire. No, dicevo le squadre, perché in realtà è vero che ha fatto sei anni a Cittadella, 270 panchine e tutti i numeri che forse avete già ricordato, chiedo scusa, mi sono collegato adesso. Ma è tranquillo. Ma è vero anche che Cittadella che ha avuto questi anni e che in sei anni ha portato a stravincere un campionato di Cico, record di vittorie consecutive e cinque volte di fila di playoff e due volte in finale, è sempre cambiato totalmente ogni anno, quasi. Comunque non solo vendeva i gioielli, ma rifunzionava, soprattutto il direttore generale Marchetti l'ha sempre fatto, la rosa, cambiando anche dieci, dodici, quindici uomini ogni volta. Per cui ha portato sì la stessa squadra, tutta la continuità, tutte le linee che vogliamo rimarcare, ma cambiando di volta in volta, appunto. Manca solo portare Marchetti alla spalla adesso, praticamente. Secondo me non si muove, su questo non lo so. Credo ci abbiano provato, mi risulta, in passato e anche altri, ma questo evidentemente è troppo bene a Cittadella. No, che dire, capisco che l'incognita possa essere una e una sola, e cioè ha fatto benissimo a Cittadella e non si è mai misurato in altre piazze, se non prima la pergolettese, il pizzeghettone, ma insomma capiamoci con tutto rispetto, è per realtà storica, ma chiaramente di un altro peso con questa categoria. Per cui il dubbio è quello e soprattutto è Cittadella, in realtà che, a mio avviso giustamente, tutti o qua li citano ad esempio, perché fa tutto quello che ha fatto, insomma, che ho appena citato, col monte in gaggio più basso, col budget largamente più basso della categoria, però in realtà sui generis a Cittadella avventurato poteva anche perdere cinque partite di fila e non ha mai avuto la fiducia che gli venisse meno altrove, in una piazza diversa, come appunto sicuramente quella di Ferrara e della Spal. Non so se questa pazienza magari poteva esserci, sarebbe e lo stesso con i giocatori che ha lanciato, perché poi ha lanciato anche tantissimi giocatori, può capitare che sbaglino la partita e due e tre e però hanno ancora la fiducia per ritrovarci e sono riutilizzati in altre piazze, non è detto che questo succeda. Per cui il dubbio, per carità c'è, l'incognita c'è, però secondo me appunto la chance la meritava per quello che sicuramente ha fatto. Dopodiché, se volete, la mia, ecco lui si è lasciato con Cittadella in modo abbastanza insolito, questa è una società in cui gli esonderi non ne ricordo o si perdono la notte dei tempi. Lui aveva un altro anno di contratto, l'ha recisso anzitempo e non si è mai chiarito bene, perché lui, non so se questo l'avete già detto, magari con i giornalisti che hanno sempre seguito di più Cittadella, io, ma non solo io, ecco, io posso dire la preferenza diretta, ha staccato il telefono o comunque non ha mai risposto a telefonato e a messaggi a chi gli chiedeva un'intervista dopo la recissione del contratto. Ha rilasciato qualche intervista successiva, ma solo ai media nazionali, senza mai entrare nello specifico. Per cui noi sappiamo, da quello che ha scritto lui su Instagram e da quello che ci hanno detto, presidente, direttore generale, che il motivo della recissione è la delusione e chiaramente lo scoramento dopo due finali perse per andare in Serie A e in che modo poi perse sempre andandoci vicinissimi a quella Serie A, però non sappiamo se c'è sotto qualche contratto, magari non hanno accontentato sul mercato. Dopo lascio lo spazio a Leo che ti dovrà sicuramente fare un paio di domande pure lui, ma la costruzione di quelle squadre a Cittadella del duo Marchetti-Venturato, quanto erano di Marchetti e quanto erano di Venturato? Perché uno dei temi è quanta voce in capitolo può avere un attore sulla scelta dei giocatori, perché ogni anno, il 31 agosto, io prendevo la rosa a Cittadella, guardavo le operazioni di mercato in entrati e in uscita e dicevo, Madonna che squadra di scappati di casa che hanno fatto quest'anno e puntualmente ci scappati di casa facevano un campionato della Madonna. Quindi volevo capire anche qui, Venturato, che idea ha? Cioè è uno che dice, ok ho questi e faccio con questi, oppure ha la pretesa di dire la sua? Allora, intanto Cittadella è una realtà particolare per cui comunque il direttore generale che Marchetti ha essenzialmente pieni poteri, non è solo direttore sportivo, ma è appunto direttore generale, ha sempre costruito rose, sì, di quelle che tu dici scappati di casa, in realtà la politica è mettendola in modo più elegante e andare a pescare in serie No, 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 ma sì, ho esagerato ovviamente. No, no, ma è chiaro che da poi c'è, o pescare magari il giocatore da rilanciare come quest'anno Antonucci, lo pensavo Buonco, per capirci. No, ma per dirti anche l'anno scorso uno guarda Gargiul e dice, ma chi è questo Gargiul? Ma da dove viene fuori? In quest'anno l'ha venduto credo un milioncino. Esatto. Decide Marchetti ma seguendo dei dettami ben recisi, cioè quella filosofia di gioco lì per cui il giocatore che arriva a Cittadella è sostanzialmente funzionale a gioco, diventurato prima di Gorini adesso che bene o male ricalca quello, per cui sicuramente si consultano, sicuramente gli diceva, si sono consultati, sicuramente gli dava delle indicazioni, si è sempre mosso, credo, in piena autonomia Marchetti perché appunto ha quei pieni poteri che probabilmente altrove non avrebbe e questo è anche uno dei motivi per cui l'hanno corsoggiato in tantissimi ed è sempre rimasto a Cittadella, però appunto lavorando di concerto non è che gli ha preso il giocatore che adesso fa ammistare questo che trova il modo di metterlo in campo, gli ha sempre preso un uomo che se la tasse ha il 4-3-1-2 suo, ma al di là del modulo che poi può cambiare perché quando era arrivato poi aveva un 4-4-2 e solo poi l'ha modificato, gli ha sempre preso i funzionali a quel tipo di gioco, per cui Cittadella diceva riconoscibile perché Cittadella è una squadra che ha sempre provato a superare palla altissima, è molto aggressiva, subito pronta a verticalizzare, poi ha adattato il gioco in base anche alle caratteristiche dei giocatori, per carità, perché quando c'era Moncini c'entra avanti era diverso dall'avere tu a me, per dire dei giocatori che poi sono conosciuti, però è riconoscibile ecco. Che curiosità, allora Venturato a Cittadella ha sempre fatto dei campionati stratosferici, ha sempre raggiunto risultati incredibili con squadre di giocatori da lanciare. Alla SPAL le premesse sono un po' diverse, la pressione è un po' diversa, ce lo diceva anche Piero Buon quando è venuto in diretta qua proprio da noi, soprattutto a Conta Coppina che non ha nascosto di voler puntare alla Serie A nel giro non di quest'anno ma di cominciare dall'anno prossimo e darsi tempo a pochi anni. Venturato è un allenatore che può lavorare con questo tipo di pressione. Ma è una grossa incognita di cui accennavamo all'inizio, nel senso che manca il test su questo aspetto. Cittadella sicuramente partiva con l'obbligo della salvezza, insomma l'obiettivo era quello e poi a meno a dichiarazioni quello che arriva in più è tutto di guadagnato. Chiaro che dopo uno o due anni in cui riusciva al giochetto tutti credevano poco a Venturato e a Presidente in primis quando dicono sì partiamo per salvarci perché è chiaro che ci hanno fatto la bocca. Però se Cittadella avesse mancato i playoff nessuno avrebbe mai minimamente potuto storcere il naso. Ma ti dirò anche i tifosi che sono sicuramente meno di quelli che ci sono alla spalla ma che comunque sono numerosi in proporzione. L'ultimo anno quegli abbonamenti e gli abbonamenti erano poco più di 3.000 che sono pochissimi direte ma su una città che ha 20.000 abitanti sono un'enormità. Anche i tifosi voglio dire questo l'hanno capito per cui se ogni anno hai il Diori turno lo vendi, hai Moncini e lo vendi, hai Puamè e lo vendi. Quest'anno Proia vabbè al Vicenza e tra l'altro vanno via e molto spesso non ripetono quello che hanno fatto a Cittadella. Chiaro che in un'altra piazza se succede questo ma non te la prendi solo con la natura, te la prendi con la dirigenza, te la prendi con il Presidente e dici ma perché? arrivate lì lì e invece che sganciare un soldino in più per prendermi la punta forte me la vendete. Però qua l'han capito, qua si sa che la filosofia è quella, per cui bene o male, quella è la grossa incognita a capire adesso cosa succederà. Se vuoi ti dico un'altra cosa in più, secondo me è venturato appunto col punto di domanda che c'era su perché è andato via, perché sì, scoramento ma ha rescisso comunque il contratto un anno prima e lui sicuramente secondo me, con tutto che non l'ha mai detto perché appunto non ci aveva parlato, aveva fatto un pensierino, pensava che qualcuno dalla Serie A lo cercasse, lo spezia in primi, insomma la voce era circolata, si parlava di un abboccamento con l'Empoli, pare anche col Bologna nel caso mio dove ci avesse cambiato Lidi. Lui la chiamata e l'aspettava, è evidente. Dopodiché passa il tempo adesso sinceramente mi credo anche che adesso si dica sì, rischio di stare un anno a fermo con tutto che nelle poche interviste che l'hai lasciato ha detto io mi prendo l'anno sabbatico in attesa della proposta, ci sarà anche detto un anno fuori al giro di chi non mi chiamino più, immagino per cui la spalla è una città che ha prestigio, plasone, è probabilmente un progetto, per usare un'altra parola, di quelle che piacciono tanto, tale da garantirmi di poter puntare in grande, come dicevate voi benissimo in studio e mi ci ributto probabilmente un paio di mesi fa, ci avrebbe pensato tre mesi fa, due volte, perché lui aveva ambizioni secondo me, con tutto rispetto, ci mancherebbe. Diego, ti dirò di più, già un paio di persone oggi mi hanno rinfacciato di aver scritto 20 giorni fa che Venturato non sarebbe mai venuto alla spalla perché aveva ambizioni di natura diversa. Ribadisco questo mio pensiero col me di 20 giorni fa, nel senso che 20 giorni fa ero convinto anch'io che Venturato fosse lì ad aspettare che saltasse, che ne so, la panchina dello Spezia o una panchina di quel tipo lì, oppure quella del Brescia, o panchine insomma dove poteva puntare un po' più in alto nell'immediato, invece evidentemente ha applicato il principio che hai enunciato tu poco fa, cioè ha detto sì, in questo caso oggi tre mesi è un problema. Eh sì, non è detto che poi rientri nel giro, insomma quel discorso lì, banalmente insomma credo che se lo sia fatto, appunto interpretando come può aver ragionato, ma insomma credo che fosse pienamente plausibile, dopodiché appunto le proposte le ha avute e le avete citate di sicuro da Vicenza, insomma era uscita in modo palese, però pare anche da Pordenone, pare che ci fossero. Mi chiedo appunto anche adesso oggettivamente un minimo di senno con tutta la stima che appunto ho avendolo visto lavorare, dubito che una città di Serie A vada a chiamare lui se è in crisi e ha bisogno di salvarsi, va a chiamare uno specialista tra virgolette salvezza e non... Qua ti metto un'altra incognita però se vogliamo metterle incognite premesse tutte le note positive e cioè ne parlavamo oggi con Alessandro al telefono, lui secondo me è tra virgolette un maestro di calcio, cioè uno che insegna calcio, proprio la squadra dicevamo è molto riconoscibile nel vederla giocare, poi può non giocare sempre benissimo o meno, ma insomma ha un'identità precisa, l'altra incognita al di là di quello che sarà il suo rapporto con una piazza diversa da quella a cui era abituato, l'altra incognita è prende una squadra a metà stagione, per cui lui non è il Cosmi di turno, lo Iachini di turno, il motivatore, sono etichette poi stupide perché in realtà è chiaro che... Virgi non è quello lì, lui è uno che insegna calcio, per cui lo insegna e però arrivi a cammino in corso d'opera, voglio dire, con una squadra che non è la tua, con una rosa che non è la tua e se non so nel mercato... È un bel punto di domanda... È un altro punto di domanda questo, eh? Un altro punto di domanda, sì. Io ti volevo dire una cosa prima di... Vai Leo, vai Leo. Sì, sì, sì. Dal punto di vista umano, abbiamo parlato adesso di venturato tecnico, di chi è, come gioca, cosa fa, ma dal punto di vista umano, che persona è? Allora, posso dirti che secondo me si è irrigidito un po' nell'ultimo anno, non so appunto se per le ambizioni che aveva, magari l'aspetto, alcuni aspetti come l'essere permaloso, ad esempio, alla minima critica o che erano, si erano un po' emersi o venuti più alla luce acuiti rispetto ai primi tempi. Per il resto, comunque è una persona correttissima e nota positiva, soprattutto alla spada con Tago Pina, parla benissimo l'inglese, essendo nato in Australia, ha anche una bella storia personale, poi lui, insomma, non so se l'avete già ricordata, è nato in Australia da genitori immigrati dal Trevigiano, lui era poi uscito praticamente del tutto dal calcio di un certo livello e l'ha ripescato Marchetti quando faceva promotore finanziario, in sostanza, e per un certo periodo, nel primo anno, la cittadella in C, ha continuato ad esercitare le due professioni, voglio dire, sei in C e non in Serie A, però trova neanche altro che ha una carriera così e che si tiene la porta aperta perché sai mai che mi è andata… Per cui è una bella storia su questo, niente da dire, sulla sua umiltà, sul modo di porsi. Nell'ultimo anno, sì, secondo me, si era un po' irrigidito verso tutto l'ambiente, questo magari spiega anche perché poi non c'è risposta al telefono quando una volta recissero il contratto e gli abbiamo detto ma allora gli abbiamo chiesto ci dissi qualcosa è questa. Posso dirti sì, questo a volte è un difetto ed è quello che da fuori può essere balzato di più agli occhi, soprattutto per chi, appunto, lo vede, come dicevamo a inizio collegamento, le due volte della partita del conto diretto l'anno, l'attaccarsi a questo, a quell'episodio non ho mai sentito dire che hanno giocato male. L'abbiamo perso perché è più facile che dica, poteva essere 3-0 per noi e poi l'episodio ci ha condannato. Poi l'arbitro, oppure la frase che magari poteva rendere antipatico e l'ha ripetuta più volte purtroppo, è io non parlo mai dell'arbitro, però era rigore. Questo è abbastanza un classico. L'ho sentito più volte a dire questa cosa, per cui sì, hai capito. Però appunto questo balza di più da fuori, sapendo come lavora e ti dico soprattutto parlando con i giocatori che l'hanno avuto, non ne trovi, anche di quelli che sono andati via e che magari giocavano poco, giocavano meno, o che ti dicano, no, questo non vale, ti diranno. Pochi preparano le partite così, perché tra l'altro questo è un altro aspetto importante. Lui ha sì un'identità ben precisa, per cui appunto, come dicevamo, è un gioco riconoscibile. Poi sul modulo appunto potrà... A Cittadella ha praticamente sempre usato il trequartista e il centrocampo a Rombo, ma appunto... Qui trequartista c'è e manco Osu, quindi direi che non ha motivo di cambiare. No, no, infatti, infatti. Però ecco, su quello si può anche derogare, magari sul modulo perché non sempre ha avuto questo, sulle caratteristiche però insomma sono quelle riconoscibili, ma è anche uno che studia molto le partite, cioè non è vado avanti dritto per la mia strada, sì, ho dei principi ben precisi di gioco, ma poi da quel che ci dicono i giocatori, sa bene questa squadra avversaria si muove così e cosa mi muovo così e cosa qui mi hai, cioè adatta anche, per carità, il gioco integralista sì, ma non col paraocchi, voglio dire, ecco. Allora, Diego, prima di salutarti, di ringraziarti davvero per il tempo che ci hai dedicato, perché va ricordato sei un papà e quindi devi andare a fare il papà. Esatto. Ti giro questo commento di Stefano Papparella che ci scrive, il vostro ospite è estremamente professionale e competente, ormai siete meglio di Sky Sport, ecco. Quindi, Diego, portati a casa sto complimento, perché non è male. Me lo so, grazie mille, fa piacere almeno, ecco, dai. E niente, a sto punto ti prenoto già e ci risentiamo per Spal Cittadella del Girono di Ritorno, perché sarà un appuntamento di cui discutere diffusamente. Grazie, Diego. Io vi chiedo già se fa conferenza stampa, perché mi pare di capire che ancora non è fissata, una domandina, ma come mai siete andati via un anno? Credo proprio ci sentiremo prima della conferenza stampa. Ciao, Diego, grazie. Grazie, Diego Zilio, veramente per averci presentato in anticipo Roberto Venturato. Non poteva andare meglio, Leo, perché veramente abbiamo avuto un ritratto completo del nuovo allenatore della Spal, Marco Marzola scherza, dice, è un Mazzarri in divenire. Sì, nel senso che se uno va a guardare le sue conferenze stampa post partita, in effetti è un po' così, è un po' così. E questo è uno dei suoi difettucci. Non è un allenatore che parla per frasi fatte, non è un allenatore come Clotet, che parla con concetti a volte anche molto oscuri, mi viene da dire, no? A volte andava a infilarsi in selve oscure. In questi paragoni orla abbiamo Gianni Lumi che dice che Venturato è i sacchi dei poveri. Ok. Vediamo. Non so se questo è il caso. Diciamo che Venturato, secondo me, ha due cose in comune con Mister Semplici. Adesso qualcuno dirà, ah, ecco, Semplici di nuovo, che due Maroni, Orlandin sempre con Semplici. Vabbè, lasciamo perdere il fatto che, a mio giudizio, Semplici è il più grande allenatore che la Spal abbia mai avuto, ma almeno di quelli che ho visto io, non sono tantissimi in effetti, però vabbè, viene dalla gavetta, è uno che non ha vissuto solo di calcio, ha vissuto anche di altro, ce l'ha detto Diego Zilio poco fa, ha fatto il promotore finanziario per alcuni mesi mentre era sotto contratto a Cittadella, e lo faceva negli anni precedenti, ha vinto alcuni campionati minori, perché se non sbaglio ha vinto due volte la Serie D e una volta la C2, quindi come Semplici aveva un passato comunque di successi nelle categorie minori. Semplici ne aveva di più, però, perché era riuscito ad arrivare… E poi ha una qualità che secondo me condivide con Leonardo Semplici, è capace di migliorare i giocatori, poi le analogie si fermano lì, perché anche umanamente, tatticamente, le differenze sono sostanziali, però ha questi due elementi che li accomunano, e ricorderai Leo che io ho frantumato i maroni al mondo dicendo, venturato, devi venire alla Spal prima o poi, e adesso è successo. Non voglio dire che l'avevo detto, però mi aspettavo che potesse succedere. Perché ti commenta Costa subito e immediatamente, se dici che l'avevi detto. Sì, esatto. Infatti dice Maurigno, è meno simpatico di Leo. È vero, Leonardo Semplici, ha un profilo umano diverso, caratterialmente, è un Toscano, ha tutte le caratteristiche, diciamo, tipiche del Toscano, no? La buona tavola, l'ironia, e questo è stato. Però posso dire, dopo gli anni incredibili che abbiamo vissuto con Semplici, abbiamo fatto due anni, se non da incubo, comunque in cui ci siamo mangiati. Oh, che poi, scusa, Marino mi odiava, ma a me era simpatico lui, tra le altre cose. Vabbè, però comunque non era una persona che la guardava e dicevi, oh che simpatico che è questa persona qui, insomma, magari qualche battuta la poteva fare, però io ti dico, diventurato, al momento io mi accontento per quest'anno che faccia fare una salvezza alla spalla tranquilla, non all'ultima e neanche la penultima giornata di campionato. Se riesci a centrare questa cosa, e poi, per carità, tutto quello che viene oltre, lo prendiamo su, non è che facciamo gli schizinosi, però va bene, anche perché è in corsa, in una situazione comunque complicata, perché l'addio di Clotet, qualche strascico lo lascerà. Ma certo. Non è venuto, per come è successo. Ma su questo adesso ci torniamo un attimo, Leo, ci torniamo sulle conseguenze dell'addio di Clotet. Voglio affrontare qualche commento, già che li vedo qua sulla colonna di destra. Mattia dice se Mancosu non va a Cagliari, allora Mattia, in base alle informazioni che ho io, non sembra esserci questo pericolo in questo momento, nel senso che la SPAL non ha ricevuto alcun tipo di offerta per Marco Mancosu. Non so se qualcuno da Cagliari gli ha telefonato, ma questo non conta, perché comunque se Mancosu vuole andare a Cagliari, prima deve andare dalla SPAL e dire, fatevi fare un'offerta. Quindi io non credo che ci sia questo pericolo. E dirò di più, Leo, questa è una mia sensazione, non è un'informazione che ho ricevuto all'interno, è una mia sensazione. Ma Mancosu, che ha cambiato tre ruoli con Clotet, adesso si ritrova con un allenatore che adora giocare col trequartista. Se uno più uno fa ancora due, a casa mia vuol dire che Mancosu resta qui. Poi non lo so. Dopo, Marco Satti dice, la mantia è davvero nel mirino, sono solo chiacchiere. Allora, anche qua il discorso è complesso. Perché, e questa è una roba che tra l'altro vorrei scrivere anche su un articolo sul Spalino per diffonderla ancora un po' di più. Il mercato non funziona come il mercato del mercoledì in piazza. Tanto a Ferrara non c'è il mercoledì, ma vabbè. Comunque, era per dire un giorno a caso. Oggi è mercoledì. Non è che vai lì alla bancarella e ti dice, cosa costa questo? Lo prendo? Sì, ok. Se sei Silvio Berlusconi e col Monza lo fai. Ma se sei la Spal o qualunque altra società non puoi fare così. Devi vedere se il momento è quello giusto. Faccio un esempio di cui abbiamo parlato. Mancosu, il 16 di agosto, non era un obiettivo della Spal. Il 22 di agosto non era un obiettivo della Spal. Il 25-26 di agosto l'è diventato. Perché? Perché si sono create le condizioni. Si sono create le condizioni perché lui a Lecce non ci voleva più stare, cercava un'opportunità diversa, la Spal ne ha approfittato ed è stata brava. Sulla Mantia si applica la stessa storia. La Mantia lo vuole mezza Serie B. Lo vuole il Pisa, lo vuole il Brescia, lo vuole anche il Monza. Lo vogliono in tanti. Lui lo sa, l'Empoli lo sa e l'Empoli ha tutto il vantaggio di scatenare un'asta per dire faccio quanti più soldi possibili con la Mantia. Anche perché la Mantia è stato pagato, sai quanto Leo dall'Empoli? 3 milioni e mezzo. Quindi se tanto mi da tanto, meno di 2 e mezzo oggi non ti chiedono. 2 milioni e mezzo la Spal non li spende, neanche se qualcuno va faccia a faccia ad un taccopina e gli punta un fucile canne mozze davanti agli occhi. Ma poi Orla, c'è un'altra questione secondo me che oggi cambia tutto quanto, ma proprio oggi lo cambia. Nel frattempo alcuni ci segnalano che a Yolanda è il mercato del mercoledì. Fantastico. La Spal, l'abbiamo detto, ma la Spal ha cambiato l'allenatore e quando una squadra cambia l'allenatore, teoricamente cambiano anche le richieste, potrebbero cambiare anche le strategie, quello che a me che la Mantia, qualsiasi squadra, lo vorrebbe. Però non è detto che Venturato voglia un giocatore con quelle caratteristiche. Non è detto. Però fammi completare il ragionamento, Leo. Detto questo, fatta questa premessa che era obbligatoria, che c'è un tempo per le operazioni di mercato e non è detto che arrivi. Se la Spal ha una carta da giocare sulla Mantia, questa carta è Federico Di Francesco, perché Diffra è in prestito con diritto di riscatto a Empoli. Sta giocando, titolare. Sta facendo anche Benone. Sta facendo bene perché ha già fatto tre gol e due assist, una roba del genere. È possibile che l'Empoli, se va avanti così, lo riscatti. Quindi va dalla Spal e dà, io lo vorrei tenere, mi piace. Bene, la Spal può fare un ragionamento a gennaio. Se, che ne so, al 20 di gennaio, la Mantia è ancora lì che non ha deciso cosa fare, perché non è convinto di questo, non è convinto di quello, quell'altro non gli assicura di essere titolare, qua il contratto non lo convince. Poi andata a Lempio e dice, oh, facciamo un cambio? Ti do Diffra, definitivo, tu mi dai la Mantia. Ma questa è comunque una via impervia, perché ci sono parametri economici in ballo che non sono trascurabili, perché comunque alla Mantia, minimo due anni e mezzo di contratto, se non tre, li devi fare. E per fare quei contratti lì, cosa servono? Di Bayoc. Quindi è più probabile che la Spal prenda un giocatore di altro genere che nella Mantia. Capisco che il nome della Mantia stuzzichi molto le fantasie dei tifosi, le stuzzica anche le nostre, ovviamente, perché è un giocatore che in questa categoria è eccezionale, però io continuo a vederla molto, 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 molto difficile, nel senso che attribuirei un 5% di possibilità. Poi, se Zamm e Ritalantino ci riescono, farò una diretta per dire, sono un pirla, non ci avevo capito niente, e loro sono i migliori. Ma non è nessun problema. Ma secondo me non è questione di essere un pirla, è questione di opportunità e di possibilità. Scusa, Piero scrive, se Pat rinuncia a un weekend possiamo competere per Messi, altro che la Mantia. Probabilmente è vero, visto che sta girando un conto a Parigi, Dubai, eccetera. Comunque non è questione di essere pirla, è questione, secondo me, di opportunità e di possibilità che devono, in qualche modo, combaciare tra di loro. Quindi, io veramente aspetterei sia parlare anche di Moncini, vedo Marco, ad esempio, che chiede se è più probabile di Moncini. Secondo me, oggi, 5 gennaio, alle 21.46, è impossibile dare una risposta credibile a queste domande, perché sono cambiate le strategie, sono cambiate le carte in tavola, è cambiato tutto. Quindi, se sarà così, lo capiremo. Il mercato ha aperto due giorni fa. Quindi, insomma, fortunatamente, se questa cosa doveva avvenire, e qui torno a dire che se l'idea c'era, forse poteva essere maturata qualche giorno prima, visto tutto quello che si è in mezzo, è il tempo per fare, per ritoccare la squadra, visto che ormai il difensore, il quartiere, sembrano cosa fatta, ci sono, però bisogna andare con calma, perché sbagliare quei due giocatori fondamentali che servono alla spalla è facilissimo. Ah sì. Allora, su Moncini faccio un inciso sulla domanda di Marco. Non credo salgano le possibilità di Moncini, perché mi risulta che la SPAL formalmente non abbia cercato Moncini, è più probabile che gliel'abbiano proposto e che la SPAL abbia detto ok, va bene, grazie di avercelo detto e adesso decideremo cosa fare. Perché, come hai appena detto tu, Leo, la SPAL non ha fretta di decidere sulla punta. Non ha fretta di decidere perché Tarantino e Zammone sono intelligenti e sufficienza da sapere che opportunità che magari non ci sono oggi possono nascere tra cinque giorni, tra dieci giorni. Dopo la gente dirà eh ma noi abbiamo bisogno adesso. Sì, ma sarà mica meglio prendere uno forte tra dieci giorni che uno così così tra cinque giorni. È chiaro che il mercato, come ogni mercato, presenta dei rischi, dei rischi, delle opportunità. Dopo bisogna saperli bilanciare e capire cosa puoi portare a casa e cosa non puoi portare a casa. Perché il critico mi può dire ah beh, abbiamo visto l'anno scorso cos'è successo con Dio. È vero, è successo quello che è successo con Dio. Io continuo a pensare che non sia una questione di incompetenza di chi ha curato questa operazione ma di disonestà del Pordenone che ha praticamente trasgredito una parola che aveva dato qualche ora prima ma va bene. Dopo lì si tratta di quale punto di vista uno vuole adottare. Tra l'altro, Leo, scusa, mi trovo anche su Sassolino dicono ah ha preso Assensio che fa schifo. Beh, Assensio adesso va a Lecce che è una squadra che compete per la Serie A. Tutto questo schifo secondo me non lo fa. Però, comunque. Sì, va bene, però comunque dipende sempre dal contesto e dal ruolo che deve avere. Andando su un intervento Massimo diceva ma Falcone rimane alla Samp? No, non credo Massimo perché su Falcone la SPAL è già d'accordo con la Samp. Col giocatore è già d'accordo da molto più tempo nel senso che nel momento in cui è nata questa operazione Falcone ha detto sì, vado alla SPAL. Quindi, se tutto va come deve andare Falcone la prossima settimana è qui. Poi abbiamo visto nel mercato può succedere qualunque roba però le voci che arrivano da Genova sono che si tratta solo di aspettare che la Samp prenda un altro portiere sostanzialmente e poi Falcone verrà liberato. Dopo, altre domande? Ce ne sono un sacco. Eh sì, ma cerchiamo di selezionarne alcune insomma, ci scusiamo con quelli a cui non rispondiamo. In realtà di risposte ne abbiamo poche però Ricky71 dice a proposito di Pat qual è la sua vera posizione in questo spallo. Allora, questa domanda ci porta prima di rispondere a questa ci porta a un altro argomento caldo che è un po' discusso, che è quello del famoso passaggio ufficiale delle quote da Colombarini a Tacopina che ancora ad oggi non è venuto. Ci risulta che debba venire entro poco più di un mese e quindi insomma non è ancora arrivato il momento per disperarsi e per urlare il noto che raccopino nei soldi anche se anche se vale la pena dire che ad oggi certezze su investitori certezze economiche sono quelle già depositate al closing di agosto non ce ne sono quindi noi non stiamo dicendo ragazzi tranquilli perché è tutto ok non stiamo neanche dicendo disperiamoci perché non è ancora il caso quello che stiamo dicendo è stiamo cercando anche noi di capire nel dettaglio come si dipanerà questa situazione nel senso che dalle informazioni che ho avuto modo di raccogliere io negli ultimi 15 giorni non ho avvertito non ho avvertito il pericolo che qualcosa possa andare storto poi qualcuno mi dirà non hai neanche avvertito che stavano per cacciare Clotet è vero infatti non sono non sono certo un rabdomante professionista però insomma allo stato attuale oggi mercoledì 5 gennaio non ho la sensazione che questo passaggio delle quote sia in qualche modo in pericolo o in discussione detto questo come lo spallino abbiamo l'obiettivo nel corso dei prossimi 15-20 giorni di vederci chiaro di fare un approfondimento e di fornire tutte le informazioni che saremo in grado di fornire su questo tema per quanto riguarda Pat Carroll è stato presentato come un sodale di Giota Coppina quando è venuto qua a settembre come uno dei partner che lo affiancherà in questa roba poi che Pat Carroll abbia un profilo social molto esuberante in cui la SPAL non trova spazio alcuno questo non mi pare un elemento di rimente nel senso che se Pat Carroll ha depositato in banca 20 milioni di euro di garanzie che servono per far andare avanti la SPAL io dico va bene non deve dire forza SPAL ogni giorno anche perché nessuno ha mai detto che Pat Carroll è il socio forte di Tacopina è una persona che diventerà prenderà il posto di Tacopina qualora qualcuno dovesse mai prendere il posto di Tacopina Pat Carroll è solo il primo nome che è venuto fuori nel gruppo di investitori a fianco di Tacopina non per questo deve essere la persona che tiene sulla baracca non c'è anche problema a farlo sì aggiungo un elemento su questa storia dei soci che Giotto Tacopina sia quando è subentrato a Bologna sia quando lo ha fatto a Venezia è sempre partito se non da solo con un partner due partner non di più e poi ha costruito in corso d'opera il il suo il suo gruppo perché questa non è bisogna che ci rendiamo conto di una roba quella che sta vivendo la SPAL non è una situazione nella quale c'è lo zio d'America che arriva e ha 50 milioni di euro in tasca e dice li metto lì e li spendo alla SPAL perché altrimenti la SPAL non starebbe facendo la stagione che sta facendo adesso se ci fosse stata quella cifra avrebbe comprato 5 giocatori straforti e oggi staremo parlando del fatto che sgomitiamo in mezzo a Brescia e Lecce per dire e Pisa che è formalmente la prima classifica non è questo il caso il caso è quello di un imprenditore nel caso di Giottacopina che ha delle disponibilità non credo siano delle disponibilità sufficienti per reggere una squadra di calcio delle dimensioni della SPAL ma che ha i contatti e tutto il resto per fare in modo che questo avvenga ripeto Pat Carroll è il primo mattoncino ma può anche essere che Pat Carroll gli abbia detto guarda ti do i soldi per cominciare e poi non rompermi più le balle non sappiamo se questo è avvenuto sto andando ovviamente per suggestioni e che magari Tacopina da qui a giugno trovi un altro mega riccone suo amico e dice ma si mi piace sta roba proviamo a metterci dentro qualcosa cioè queste sono dinamiche molto complesse del mondo economico finanziario della quale noi non sappiamo assolutamente un tubo quello che possiamo fare è da qui a febbraio quando questo passaggio definitivo dovrebbe avvenire cercare di scoprire quante più cose possibili che è un po' la natura del nostro mestiere cosa che non è comunque facile visto l'ambito in cui ci si sta muovendo direi tornare su Clotet per andare in chiusura sì perché ci sono anche altre domande su Clotet avevo letto una domanda sullo staff lo staff di Clotet è stato ovviamente liquidato nel senso gli altri due spagnoli che erano con lui il vice e il collaboratore tecnico esatto e arrivano Bruniera e Zanoncelli tra l'altro due ex giocatori della Spalla in due momenti diversi degli ultimi vent'anni e 25 anche nel caso di Bruniera perché era 95-96 e per quanto riguarda invece altre domande ci chiedono anche delle cessioni ah Stefano mi chiede di Diuric lo escluderei Stefano perché Diuric giocatore in scadenza ha molte proposte molte proposte piuttosto vantaggiose dal punto di vista economico e non credo non credo possa rientrare nei discorsi della Spalla però anche lì mai dire mai insomma dice ah ok Riccardo dice pensate che Tacopina mette 650.000 per lo stadio poi non prende la società no ma aggiungerei una roba Riccardo a questo tuo ragionamento che condivido ma Tacopina che è nel calcio italiano dal 2007 ormai sì una roba del genere perché alla Roma mi sa che lui arrivò con Thomas Di Benedetto nel 2007 ma Tacopina che è un personaggio di caratura nazionale negli Stati Uniti perché ci dobbiamo ricordare che è molto molto conosciuto negli Stati Uniti è uno degli avvocati più noti negli Stati Uniti per quanto riguarda quella che si chiama criminal justice anche in Italia visto che ha seguito in Italia in Italia è molto conosciuto come imprenditore in ambito calcistico non come avvocato insomma mi viene strano pensare che si imbarchi in una roba così grossa come l'acquisizione della Spal che non è una roba non è l'acquisizione del pizzichettone che è stato citato prima senza sapere cosa sta facendo e prendendosi rischi che potrebbero essere colossali annunciando tra l'altro la risalita in Serie A cioè non è arrivato per dire vediamo come va ha detto ragazzi qua l'obiettivo è riportare la squadra in Serie A cioè non è una promessa da poco ma infatti io non ce lo vedo uno come Tacopina perdere la faccia in una vicenda del genere non mi sembra non mi sembra plausibile poi le cose vanno storte anche quelli che si chiamano Tacopina sia ben chiaro cioè non è Remida che tocca tutto quello che tocca e diventa d'oro però non vedrei non vedrei la logica perché rischia di rovinare anche la sua reputazione negli Stati Uniti con un'operazione fallimentare cioè non ce lo vedo proprio cioè quindi al momento le preoccupazioni su questo passaggio di quote non mi sembrano realistiche tuttavia ripeto da qui ai prossimi 20 giorni avremo modo di approfondire di approfondire questo tema ci sono tante voci dice Piero che i lavori dello Stato non li abbia pagati Tacopina con la precedente proprietà anche qua le voci sono una cosa i fatti sono un'altra se qualcuno mi mostra una fattura che è stata pagata attraverso un bonifico dei colombarini dirò allora questa cosa puzza però allo stato attuale non abbiamo elementi per dire nessuna delle due cose quindi insomma vediamo che piega prende sta storia perché è sicuramente un tema interessante che preoccupa parte della tifoseria ma che secondo me non è roba da spia sul cruscotto in questo momento allora c'è Sergio che dice a quanto pare che l'otelente non è stato contato sul mercato Venturato dovrà accontentarsi dei giovani e delle promesse come ha fatto con Clotetto oppure soddisfieranno le sue richieste ma da quello che ho capito io Venturato non ha presentato chissà quale richieste alla dirigenza della Spal cioè la dirigenza della Spal gli ha illustrato il progetto gli ha detto la squadra è questa devono giocare dei giovani perché dobbiamo incassare i soldoni dei contributi vorremmo valorizzare alcuni elementi di questa rosa perché sono di nostra proprietà e questo è un elemento che non abbiamo discusso finora ma che secondo me ha creato ulteriori frizioni con Clotetto l'hai nominato tu prima però cioè Tiam che è stato messo in castigo Sec che doveva essere una delle stelle di questa squadra relegato a riserva dall'ultimo quarto d'ora finale Esposito messo a fare un ruolo che non è quello che lui ama di più Tripaldelli preso e messo via cioè gli asset di questa Spal con Clotetto sono stati valorizzati ni ni tendente al no ecco questi questi asset hanno effettivamente il valore che la Spal attribuisce non lo sappiamo non lo sappiamo non lo sappiamo magari Venturato trasforma Sec da una punta da 15 gol alla stagione allora lì grideremo un miracolo però completo il discorso Venturato gli è stato detto la squadra è questa gli obiettivi sono questi le prospettive sono queste le richieste sono queste quello che faremo a gennaio è questo che ne dici e lui ha detto va bene ok cioè non è che ha detto ok vengo a qualunque ha detto per quello che mi avete presentato mi sembra tutto molto sensato e si può fare quindi onore del vero orla possiamo anche dire che sembra sembra perché fino a che non c'è la conferenza stampa non lo capiremo che Venturato abbia accettato anche con una buona dose di entusiasmo no cioè nel senso non è come un ripiego nel senso vabbè è il tempo che non faccio un cazzo sembra che insomma abbia sposato il progetto quindi quantomeno in avvio è difficile pensare che ci possono essere degli scollamenti di vedute ecco su cosa vuole la società e quello che che fa l'anendatore Enrici chiede per il closing ma ne abbiamo appena parlato Enrici ti invito a guardare la replica perché ne abbiamo appena parlato lungamente allora il contratto di Venturato quale dice Maurigno è un contratto fino a giugno 2023 quindi un anno e mezzo quindi questa stagione e quella successiva a cifre non esagerate non so le cifre precise perché nessuno me le ha dette ancora ma mi è stato fatto capire che non stiamo parlando per esempio un allenatore che era a casa in questo momento e che è stato sparato da tutto il mercato web quasi a tempo scaduto era Corini ma Corini veniva da un contratto a Lecce che non è neanche minimamente paragonabile a quello che aveva avventurato Cittadella o quello che può avere avventurato la spalla ti interrompo per segnalarti il commento di Marco continui che saluto tra l'altro e dice salutiamo Silvestri che è già in linea e ci sta guardando quindi sicuramente lo salutiamo Tommy Silvestri grandissimo Tommy ciao Tommy tra l'altro sta facendo una gran stagione a Modena magari il prossimo anno lo ritroviamo anche da avversario in Serie B e allora poi Andrea ci chiede situazione Covid allora situazione Covid diversi si sono negativizzati da quello che ho avuto modo di capire fermo restando che la spalla su questo argomento non fa filtrare informazioni né ufficialmente né ufficiosamente nel senso che tutto quello che raccogliamo è frammentare su questo preciso argomento perché c'è la tendenza a voler proteggere al massimo livello la privacy di tutti giusto sbagliato è una scelta e dobbiamo rispettarla detto questo la SPAL si sta allenando come funzionano gli uffici smart working oggi un gruppo si allena un giorno un altro mezzo gruppo si allena l'altro giorno e va in alternanza fino a che non verranno fatti tutti i test medici fisici questo e quest'altro e poi dalla settimana prossima quindi da lunedì potrà riprendere col gruppo al completo allo stato attuale mi risulta che il gruppo sia quasi al completo nel senso che manchino in pochi quindi se tanto mi da tanto per la partita col Benevento a meno di catastrofi ulteriori dovrebbe esserci tutti a differenza di altre squadre che stanno avendo un sacco di positivi proprio in questo momento la SPAL forse è anticipata nella sfiga ha avuto fortuna perché ci sono squadre che sono veramente messe male e quindi vedo altri messaggi di stima per Tommy Silvestre giustamente insomma è stato un grande giocatore per la SPAL vado sulle ultime due o tre domande e poi Leo andiamo in chiusura anche se veramente ripeto ancora Roby Zard dice Tommy ricordi il rigore di Gubbio che ha causato se non sbaglio del rigore di Gubbio ne avevamo parlato anche in una diretta in cui c'era con noi Tommy l'anno scorso di fatti Orla prima di andare con le ultime due domande e poi chiudere ringraziamo veramente tutti quelli che ci avete seguito che hanno partecipato siete voi che fate questa diretta perché noi siamo qua ma la diretta la fate voi e il senso è quello diciamo due cose però comunque grazie per seguirci insomma fa sempre un sacco piacere una domanda di Stefano dice Esposito lo vendiamo o funzionano gli schemi avventurato no 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 torno al discorso di prima caro Stefano cioè la SPAL vorrebbe vedere valorizzato Esposito perché è un 2000 perché è al terzo campionato di B da titolare e quindi si augura che Venturato lo utilizzi nella migliore delle maniere poi vedremo se in questo 4-3-1-2 Venturato lo considera diciamo il vertice basso di questo centrocampo a rombo che normalmente utilizza utilizza Venturato oppure farà un po' la mezzala come ha fatto con Clotet anche questo è un aspetto interessante Buzo dice oggi mercoledì Viviani sblocca lì sì speriamo devo dire che ho cominciato un po' le manovre di avvicinamento cioè non diretto da Viviani ma ho parlato con una persona che potrebbe aiutarmi a intercedere su questo e quindi qualche piccolo di fare una diretta con Viviani no l'avevamo promesso ora della fine stagione dobbiamo fare il Super Bowl della riconciliazione con Viviani allora Esposito va in scadenza no Davide Esposito ha un contratto con scadenza giugno 2023 con opzione per un altro anno quindi non c'è alcun pericolo che vada in scadenza Mora sarà funzionale il gioco di Venturato? potrebbe esserlo potrebbe esserlo perché è un elemento che nel gioco di Venturato potrebbe aver senso guardate bene il Cittadella di Venturato gli anni scorsi chiudeva sempre il campionato nei primi posti come squadra con il maggior numero di falli commessi quindi Leo chi meglio di Luca Mora può dare dei calcioni negli sting agli avversari lì in mezzo al campo arriverà Benedetti a Cittadella non lo so Andrea adesso vediamo cosa decide di fare la SPAL penso sia presto per fare questo tipo di valutazione sui biglietti di Benevento ragazzi io non so niente ma avete fatto bene a sollecitarci che così andiamo a capire Elena ha scritto che ha sentito in biglietteria che stanno aspettando per sapere quanti biglietti metterà in bene perché c'è questa roba del 50% adesso negli stadi che non è ben chiaro cosa succederà anche la SPAL probabilmente staranno impazzendo su questo discorso partenze dice Sara Guidorsi te ne dico due Spaltro corteggiato dal Sud Tirol e Dorazio verso Avellino Dembattiam punto interrogativo ma più probabile che vada che resti in prestito Abu presumo di sì anche lui Coccolo è già stato restituito alla Juve per quanto ne posso sapere quindi le partenze in un certo senso ci sono già state anche Marcello Colinci che dà le eccessioni più o meno il quadro in questo momento è questo serve il super green pass per la diretta no non ancora Piero quindi anche i Novax ci possono seguire allegramente ragazzi spero vi rendete conto che un'ora sola è poco ma non lo so Andrea se no diventiamo diventiamo una specie di epigono di lunedì sport insomma che dura due ore e mezza cosa che non abbiamo le pubblicità in mezzo quindi noi facciamo un'ora secca adesso anche di più va bene situazione apertura curvino e gradinata allora la curva la curva est è agibile quindi la spalla può aprire se ritiene per quanto riguarda la gradinata se ne parla per la prima decada di febbraio quindi quello quello è un po' il l'orizzonte bene dai direi che veramente mi mi dà fastidio non poter rispondere a tutti ma rischiamo di stare qua fino a domattina vi avevo chiesto di chiamo e avete escluso la partenza poi le cose sono precipitate no Piero cioè allora non mi ricordo quando l'avevi chiesto se l'avevi chiesto un mese e mezzo fa ci sembrava un po' un po' strana come cosa è chiaro che in questo arco di tempo i rapporti tra Tiam e Eclotet si sono deteriorati a un punto tale che Tiam stamattina come prima cosa che ha fatto quando si è svegliato è stato pubblicare una storia su Instagram in cui ha un sorriso da qua a qua e c'è scritto buongiorno e allora anche lì uno più uno fa due a casa mia detto questo non so se con l'arrivo già concorato di Falcone abbia senso tenere Tiam o magari fargli fare un'esperienza da qualche parte per fargli ritrovare serenità e vedere che progressi avrà fatto ma come abbiamo detto prima essendo cambiato l'allenatore è tutto ancora in discussione a parte chi ormai è già con un piede fuori Ferrara quindi ci riaggiorniamo alla prossima diretta sicuramente con qualche informazione siamo invitati ad aprire un canale Twitch ci avevo pensato sai Luca quindi può anche essere che lo faremo avremo mai Sandro in diretta ma magari Sovrani è nostro idolo cioè oggettivamente Leo io e te non saremmo qua se non fosse per Sandro perché fino a due o tre anni fa anche quattro non avremmo mai pensato di fare una roba del genere invece l'abbiamo fatta proprio perché Sandro ci invita il lunedì ogni tanto e abbiamo capito lì che magari anche noi due o tre cose le potevamo mi ricordo quando abbiamo ne abbiamo parlato per la prima volta in un bar dopo una partita era un po' spartita non mi ricordo neanche di quale bar però abbiamo detto uno dei tanti bar squallidi che abbiamo visitato dopo una partita va bene direi che possiamo augurare la buonanotte a tutti grazie 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 di cuore a tutti quelli che ci hanno seguito a tutti quelli che ci seguiranno domani su Facebook ma anche su YouTube quelli che ci ascoltano e basta invece di guardarci tanto non c'è niente da vedere basta guardare quelli che ci signorano esatto esatto quindi ci vediamo mercoledì lo dico sotto voce Leo mercoledì potrebbe esserci un ospite di quelli che fanno il botto il botto abbiamo già una mezza parola ma non voglio sbilanciarmi troppo come come mio costume perché fermati basta 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 che poi succede che non viene esatto esatto quindi fino a mercoledì pomeriggio alle 4 non darò niente per scontato ma se succede ci divertiamo un sacco quindi buonanotte a tutti e ci vediamo mercoledì prossimo ciao ciao a tutti alla prossima